e ora che la maturità è finita che ne sarà di questo canale che cosa accadrà al canale beh la risposta a questo quesito è semplice tornerà in attività meglio di prima benvenuti a tutti ragazzi benvenuti sul canale io sono Pigatti e oggi sono qua con Skinny per uno speciale vlog che servirà sia a me sia a voi per disegnare quelle che sono le linee da seguire di questo canale nel prossimo futuro il mio assistente sarà lui quindi prego mettiti in posizione e cominciamo subito con il primo punto alla lista bene allora nuova programmazione la nuova programmazione nel prossimo futuro saranno 4 video settimane non più 3 poiché ogni sabato uscirà un video il ruolo di questo quarto giorno sarà specificato a breve e ho scelto di farlo soprattutto perché ho intenzione di accelerare molto l'attività del canale e soprattutto portarvi nuovi video però ho capito che portarvi quello che è al di fuori del full gameplay soltanto il mercoledì è limitativo e soprattutto non mi permette di tenere il passo con tutto quello che registro infatti cosa succede io registro e i video mi rimangono fermi fuori dalla pubblicazione per troppo tempo di conseguenza ho deciso di aggiungere questo quarto giorno in via definitiva non più una sola volta al mese per cercare di risolvere questo problema infatti non poi l'angolo del nerds e il creepypig saranno serie che finiranno sì il sabato o il mercoledì ma in via quasi ufficiale soltanto il mercoledì anche se penso che le creepypig continuerò a farle uscire il sabato perché è più figo farle uscire il sabato prossimo punto alla lista secondo punto ruolo del sabato il ruolo del sabato come ho detto è dedico a nuove serie che non sono full gameplay sono flash gameplay ma che prevedono più giorni di pubblicazione in questo ambito ho intenzione di inserire le serie rpg i giochi rpg sono molto interessanti a me piacciono un casino tuttavia se dovessi portarli nei giorni ufficiali ovvero il martedì il giovedì il venerdì e il lunedì si fermerebbe tutto il resto delle pubblicazioni io non posso permettere questo di conseguenza ho deciso di introdurvi queste serie il sabato anche se questo vlog sta uscendo a sua volta di sabato la prima di queste serie che uscirà sarà spooky di house of jumpscare che io ho già iniziato a registrare e a montare e successivamente ho intenzione di portarvi anche ib mad fathers quindi tutta quella serie di giochi lì che sono fantastici ma che in pochi fanno o comunque chi li fa li fa perché ha una passione personale nel farli ovviamente proseguiranno le pubblicazioni come ho detto l'angolo del nerds con tanto di nuovi video che tra poco vi illustrerò e le creepypig ma come ho detto potrebbe essere che questi si spostino il mercoledì prossimo punto alla lista terzo punto nuovi video nuovi video ok per nuovi video intendo le nuove serie quindi la video il video recensioni il video lettura e il video tesina che in realtà quest'ultimo è uno speciale che ho intenzione di fare per celebrare con voi la fine del mio percorso di scuola superiore ovvero un video dove esporrò la tesina che ho esposto per quanto riguarda il video lettura per quanto riguarda il video è qualcosa di personale ma che tuttavia prossimo punto alla lista successivamente e registreremo il video video è la propria necessità di tempo per essere spiegata illustrata in maniera corretta e soprattutto che non a noi e che soprattutto sia utile a voi come spunto di riflessione perché come ho sempre sostenuto il mio canale non è soltanto trash è anche cultura di conseguenza quello culturale è un aspetto che io voglio curare in maniera molto maggiore rispetto a quella dei gameplay li metto lì e in cinque minuti li faccio i gameplay quello culturale invece è un ambito in cui voglio impegnarmi molto di più con voi di conseguenza mi ci impegnerò molto di più e per quanto riguarda le future pubblicazioni non intendo solo le pubblicazioni qua sul canale bensì pubblicazioni anche materiali sto preparando la mia prima raccolta di poesie in maniera tale da poterla pubblicare in via definitiva e non è che utilizzi il mio canale per farmi sponsor semplicemente vi sto dicendo da buoni iscritti che ho intenzione di fare questa cosa di conseguenza se vi potesse interessare mi piacerebbe saperlo o comunque mi piacerebbe anche giusto un vostro supporto della serie vai fallo così giusto perché sotto questo aspetto per quanto io sia una persona dallo spirito forte sono parecchio insicuro riguardo alle mie capacità di conseguenza sapere comunque di avere 51 persone barra 52 persone dietro che mi spingono a fare una cosa potrebbe essere un buon incitamento Dulcis in fundo video special sponsor per canali non ricambiati cosa intendo con questo punto? intendo dire che ultimamente mi sono arrivati molte molte segnalazioni di gente che mi chiede iscritto ricambi? allora io gli ho sempre detto che odio le persone che fanno così partendo da questo però ho capito che non posso più pensare di allontanarle dal mio canale perché ho solo 51 iscritti e loro pensano di potersene approfittare allora iscritto ricambi? no non ricambierò a tutti ma non per questo vi lascio in sospeso perché capisco che è frustrante è frustrante soprattutto mi faccio soltanto degli haters non mi faccio degli iscritti attivi di conseguenza d'ora in poi iscritto ricambi? aggiungerò un commento dove dirò se il canale mi interessa e mi iscrivo o se non mi iscrivo ma comunque do dei suggerimenti per magari crescere le motivazioni per la quale non mi iscrivo e non ricambio inoltre vi faccio un altro regalo d'ora in poi ogni tot e tempo usciranno dei video in cui questi iscritti ricambi verranno sponsorizzati da me in modo tale che non rimane soltanto un'iscrizione che tu hai fatto in mio favore e che non ti è stata ricambiata a vuoto ma che comunque hai ottenuto del support perché alla fine noi di Youtube Italia dobbiamo sostenerci per andare contro quelli che sono i grandi dei canali Favij e quella gentaglia lì che rubano soltanto spazio a coloro che magari lo Youtubers lo farebbero in maniera molto più seria qua sto divagando ovviamente però sapete che sono fatto così Comunque i punti alla lista sono terminati spero che il blog vi sia interessato e che sia stato utile che sia stato chiaro nello spiegarmi in conclusione in realtà vi aggiungo un'altra cosa perché da questo momento in poi non pubblico tutte le settimane perché questa è una domanda che mi stava sfuggendo semplice dall'altra parte di questo canale come ho sempre sostenuto c'è una pagina Facebook anche se la pagina Facebook non è molto seguita ma facevo fatica a gestirla perché comunque dovevo molto più pubblicare su Youtube che su Facebook di conseguenza cosa ho deciso di fare? nella settimana in cui mi riposo e quindi distacco tra una settimana e l'altra di pubblicazione su Youtube pubblico gli stessi video della settimana precedente su Facebook di conseguenza se non potete iscrivervi su Youtube andate su Facebook trovate la pagina la settimana dopo della pubblicazione su Youtube vengono pubblicati gli stessi video negli stessi giorni sulla pagina Facebook così che possiate seguirli in maniera estemporanea ma comunque rimanendo aggiornati riguardo al canale per il resto ho detto tutto ragazzi statemi bene mi raccomando passate buone vacanze ci saranno delle pause sul canale per le vacanze? sì ma tranquilli sono corte perché rimango via massimo 15 giorni nulla di più per il resto rimanete connessi e alla prossima ciao ciao